A Scampia ricomincio da me perché io valgo e questo è il motto dei ragazzi che prendono parte alla scuola della seconda opportunità, una seconda chance scolastica per quei giovani le cui capacità sono indirizzate verso strade alternative, ma che da alcuni anni, grazie al progetto ricomincio da me, ritornano a studiare a casa Alcobaleno a Scampia, con gli operatori della cooperativa sociale Occhi Aperti. Il progetto offre una nuova possibilità, dopo un primo percorso fallito si pone come integrazione una scuola ordinaria che non piace, gli operatori guidati da Enrico Müller la definiscono altro e di più, perché promuove occasioni per riavvicinare i giovani a matematica italiano e informatica, ma anche a dei percorsi formativi. L'iniziativa è rivolta ad un gruppo di ragazze e ragazze pluripetenti, napoletane e rom, tra i 14 e i 18 anni, che non hanno conseguito la licenza. I ragazzi sono segnalati dalle istituzioni competenti e seguono la scuola per 11 mesi, per 5 giorni la settimana.